A Valanga il basket club Irpinia, i biancoverdi hanno deciso di fare le cose per bene in questa stagione e sabato scorso hanno strapazzato il basket volla con il punteggio di 91-62. Dopo i primi tre quarti molto equilibrati, la squadra di Giannacone è stata devastante nell'ultimo periodo di gioco che si è concluso con il punteggio di 33-11. Irpini devastanti e soprattutto senza paura contro un avversario che inizialmente aveva fatto anche lo spavaldo. La formazione irpina nell'ultimo incontro ha portato tre uomini in doppia cifra, Giannicelli, Cantelmo e Ferrara, ma lo staff tecnico biancoverde può essere molto soddisfatto per le prove dei giovani Andrea De Luca e Niccolò Grieco. In stagione i due ragazzi classe 98 e 99 hanno trovato poco spazio, ma sabato si sono fatti trovare preparati dando una mano sostanziosa al basket club Irpinia. Nel fine settimana gli avellinesi scenderanno in campo sul parchè di Sala Consilina per affrontare la pallacanestro Trinità, squadra ambiziosa che nei playoff potrebbe essere la mina vagante. Nel girone B situazione più che critica invece per il cab solo fra la vittoria di Potenza e la contemporanea sconfitta De Conciari condanna la squadra di De Francesco all'ultimo posto in classifica.